Saluti! Benvenuti al gioco d'allenamento! Limoni! Ottima scelta! Vieni! Voli! Ehi! Ora! Il comando stellare è orgoglioso! Lancia quelle torte! Hai capito tutto! Hai capito come funziona? Oh, bel lavoro ragazzi! Entra pure! E fa scoppiare i palloncini! Quelle pecore sembrano essere dei bersagli! Ricorda di far splendere il sole! Oh! Hai capito! Ciao! Nefi! Uncanna! Uncanna! Minus! Ecco! Uncanna! 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 30 secondi ehi, trova a colpire quel fiore un sacco di volte stiamo perdendo tempo ciao e grazie per tutti gli scoppi benvenuti a tutti, ora fate scoppiare i palloncini prendi quei fiori visto che roba? prendi quei fiori vai così, vice sceriffo 30 secondi son, brigati per favore bravo, ottimo lavoro benvenuti a tutti salva più pecore lontane che puoi 30 secondi spingati per favore grazie per tutti gli scoppi benvenuti a tutti ora, fate scoppiare i palloncini i palloni di quei parassiti sono piccoli cerca di farli scoppiare wow, questo si che è tirare laina 2 2 3 Grazie a tutti. 30 secondi. Stiamo perdendo tempo. Bravi, ottimo lavoro. Entra pure e fa scoppiare i palloncini. Ottimo lavoro. Prova di nuovo. C'è un altro aereo dopo. Abbattilo, socio. C'è un altro aereo. C'è un altro aereo. C'è un altro aereo. E va giù. C'è un altro aereo d'oro. Abbattilo, socio. 30 secondi. Stiamo perdendo tempo. Ciao e grazie per tutti gli scoppi. Ciao. 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 30 secondi Non bastano le pecole più vicine Prendi anche quelle più lontane Oh, sbrigati per favore Bravi, prossimo lavoro Entra pure e fa scoppiare i palloncini Cerca di far scoppiare tutte le pecore, socio Sei il migliore che abbia mai visto Per favore Per favore Per favore Per favore Guarda tutte quelle gocce di pioggia Guarda tutte quelle gocce di pioggia 30 secondi Stiamo perdendo tempo Ciao e grazie con tutti gli sbagli Benvenuti a tutti Ora fate scoppiare i palloncini Guarda Vedo dei palloni d'oro nascosti lì dietro Per favore Per favore Per favore Per favore Per favore Musica Oh, ce l'hai fatta! Ehi, vediamo che succede se fai scoppiare tutti i palloni piccoli. 30 secondi! Oh, sbrigati, per favore! Bravi, ottimo lavoro! Bravi! Cross i denti! Urrà! Yee-hah! Arrivederci! Guarda che cosa sei riuscito ad accaparrarti! privati se selezioni questo segnale